E' arrivato a Venezia nel 2023 con una richiesta di protezione internazionale. Ieri un tunisino 28enne vicino ai gruppi jihadisti è stato rimpatriato nel suo territorio. A dare la notizia attraverso un post su X il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Un cittadino tunisino vicino a gruppi jihadisti e sospettato di voler commettere attentati terroristici, si legge, è stato rimpatriato nel suo paese d'origine. Il ragazzo infatti risultava segnalato dalle autorità tunisine come radicalizzato in arrivo in Italia con una nota diramata dalla Digos. Faceva parte della frangia più estrema dell'islamismo, ideologia alla base dello jihadismo. La sua richiesta alla questura nel 2023 di protezione internazionale fu bocciata. Successivamente il 28enne chiese asilo politico, ma anche questo fu bocciato, presentò ricorso ma venne respinto. Da qui l'avvio della procedura di rimpatrio. L'espulsione non è stata la conseguenza di un dispositivo di pubblica sicurezza, ma presa in considerazione del suo profilo e dello status di immigrato irregolare. Le ultime espulsioni legate al terrorismo a Venezia riguardano i tre giovani kossovari arrestati nel 2017 mentre progettavano un attentato a Rialto. Scontata la pena, furono rimpatriati. Ma per un colpo alla criminalità, in Via Piave a Mestre la lotta invece è continua, come racconta uno dei residenti più attivi del territorio. I controlli ci sono. Io ho parlato anche proprio questa mattina col signor prefetto e mi dice che questa notte appunto hanno fatto anche delle operazioni. Sono impegnati anche in questa operazione di questo rimpatrio e sicuramente le cose qui su Via Piave, per quanto mi riguarda, stanno migliorando. Anche se nonostante tutto e tutta l'attenzione delle forze dell'ordine, ci sono ancora personaggi che girano liberi e quasi indisturbati.